La cantante Niv non ce l'ha fatta, purtroppo è stata eliminata prima della finale di Amici 2019. Prima un diretto scontro, ma la bella e bravissima cantante in questione Niv non ce l'ha fatta, è stata, ripeto, nuovamente eliminata prima della serata finale di Amici 2019. Spiacere, tristezza ovviamente nei tanti voti delle persone che sono fan, sono fan, sono ammiratori e ammiratrici di Niv, questa bellissima e bravissima ragazza, questa bellissima e bravissima donna. Va bene? Vi ringrazio per l'ascolto di questo video di oggi, dunque si ferma qui il sogno di Niv, questa strevitosa cantante, e non so più che pesci pigliare per dirvi che sono molto amareggiato, va bene? Tanti auguri di buona vita a lei, il video termina qua, iscrivetevi se vi va, mi raccomando, un saluto caro da Leandro, un narratore italiano.